Bene signore e signore, siamo qui nell'angolo del unboxing, siamo qui nell'angolo dell'unboxing per una novità, che cos'è questa Chris? Action camera, nuova perché ce l'avevo già soltanto che non è in HD la mia, allora non è ordinata l'altro. Ah, aspetta, però mettiamo in chiaro una cosa, è di entrambi questa action camera, molto delicata, apre, l'ho pagata che spesa su Amazon? 55 euro, 15 euro, spedizione comprese, e questa è la action, eccola qua, action camera, questa l'abbiamo presa per Fuerteventura, poi anche per fare dei video, 4K, 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 ultra HD, apro? Aspetta, prendete prima bene vicino delle cose, se le vogliono vedere, ora qui mettete pausa nel caso, vedete c'è tutto con calma, vuoi più luce? No, come è con la luce? Allora, eccola, signorina, questa è l'action, c'è una bella immagine, ok, ora la facciamo di anche a perno, qui è tutto schermo ragazzi, guarda lo schermo quanto è grande? Che cosa? Schermo dell'action. E come tutte le action. Ok. E qui abbiamo la scattolina con gli accessori. Allora, la custodia, bella la custodia. No, la custodia che, ah, quella, la custodia serve per mettere dentro l'action camera, vedi? Ah, bella. Quella portiglia, è simpatico. Poi, passeremo. No, facciamo più visibile l'action camera. E lei la cosa ha messo. Tutti i vari agganci. Questa. Questo è un aggancio, credo, da... Sì, ma sono tutti, cioè, perché vedi, con questo, questo qui, lo puoi attaccare tipo al selfinator. Ah, ok, ok, sì, sì. Ti vari agganci. Però dico, a cosa serve questo esattamente? Ah, perché nella telecamera, ah, ok, telecamera però senza la custodia, intendo. E se no, già così... Ah, qui non c'è la bicicletta, eh? Sì, ma c'è questo. Guarda, guarda, guarda. Questa è questa. Quella è quella grappina, sapete? Falo vedere bene, ecco. Tipo quello dei marzupi, capito? Questo è quest'altro. Questo... Abbiamo una leva... Non toccare! Devo capirne. Ma li capisco io dopo, ragazzi. Ok, questo stringe e allarga. Sì. questo è un morzetto questo serve per ah vedi c'è l'aggancino questo è il morzetto se me ne avranno più subito non posso toccare nulla sembra che spacco tutto io questo è un altro cancino questo è un altro cancino ah la cancina la cancina vabbè non li voglio aprire tutti no invece aprire tutti e no perché tipo questo ce ne sono due non li voglio dividere ma sono certi agganci sono tipi di agganci si guarda già questi sono tipi di agganci si più o meno sono tipi di agganci poche parole la possiamo agganciare ovunque questo dal selfinator alla casca questo è uno schermo ah uno schermo in più mi sa se si rompesse un po' d'altro ah si è uguale si è questo quindi c'è andato anche uno secondo un fil di ferro perché un fil di ferro un fil di ferro non lo voglio aprire questo è lo strappo quello per attaccarselo tipo al braccio il cosino per pulire il pannuto per pulire bello questo altri strappi non so per quanto 55 euro ma che volete ma poi due batterie incluse mi raccomando cosa importante perché hanno una batteria sola costa tipo sui 70 euro e tu la sapevi di questa cosa? si che c'hanno due batterie il telecomando per comandare la distanza per fare stop registrare uno fa quello rosso fa la fotocamera e quello grigio il video cioè dal via al video però questo non è impermeabile è foto e video figo delle fascette delle fascette senza mettere perché delle fascette? ma per bloccarla da qualche parte il caricatore caricatore USB ovviamente la spina no perché questo è un caricatore standard come quello della PSN ragazzi e un altro aggancio un altro aggancio diciamo che siamo messi abbastanza il libro delle istruzioni il libricino delle istruzioni non è male dai ragazzi con questo ci divertiamo aspettate ora vediamo un po' come fai i filmati poi vi introdurremo magari un filmato nel video per vedere come vengono ok? fateci qualche minuto e facciamo qualche prova va bene? hai qualcos'altro da dire? spesa totale 55 dai vabbè faccio una bella telecamerina per fare un po' di filmati un po' migliori anche subacquei e questo non è male ragazzi sì perché quella che avevo come ho detto non è in HD sì 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 se sei in HD o per me non vai niente il mondo ragazzi è ormai in HD che bella sono molto contenta peccato non l'abbiamo preparato il sentimento sì vabbè quell'altra no ma c'ho il treppiedi lì comunque comunque quell'altra dove era? quell'altra action camera sembrava più un giocato ma poi l'avevo pagata ce l'hai qui? 30 euro ce l'hai qui l'altra? non so si può far vedere la differenza eh ma c'è l'unboxing c'è il video ok ce l'è sì c'è il video unboxing dell'altra quindi ve la potete vedere tanto nella solita playlist grazie guardate che bellina è professionale stavolta non è male 4k ultra HD ora facciamo qualche filmato e li uniamo a questo video va bene va bene va bene da Frank Mazzola è tutto hai dato da dire amore? no no ok da Frank Mazzola è tutto ci vediamo al prossimo unboxing un saluto a Lady ciao a tutti e a prima di fare grazie signori da Frank Mazzola è tutto passa il gruppo buccia grazie